Queste sono delle cannucce con del cioccolato, delle palline di cioccolato, si mettono nel latte e si succhia, vediamo che succede, non le abbiamo mai provate, vediamo quest'altra Ma tutti loro se lo inventano Mamma, è come se stai bevendo il latte al cioccolato, però è bianco Com'è Niki? Molto più cioccolatoso lì del latte al cioccolato Però fuori sono di plastica, vero? Sì Ah, il latte passa tra le gocce e diventa cioccolatoso Sì, guarda Com'è? Niki? Abbiamo provato un'altra cosa Ok, approvate Figuriamoci, non avevo nessun dubbio Ok, grazie Grazie a tutti.